vai ecco vediamo Leo che è il primo ad attraversare il porto mi raccomando scivola al mezzo non sai qualcosa di altamente da mezzo si se no qua la ripresa dopo due diventa noiosa eh sì veramente finisce con uno che è un cavolo perché fanno proprio bene il vento adesso almeno un asse che si stacca qualcosa scusa non tirai di più facevo la sorpresa orca miseria bravo sento dello spettacolo niente io favo un camera car intanto che voli riprendi esatto ho fatto che il camera car e vai ho avuto la brillante idea di partire senza mani per riprendere e sto per volare per terra e sto guardando il panorama ho fatto un commento che vedremo solo nel video quando attraversavo il porto io non c'è si io siamo un camera?